Quante Italie ci sono in questo paese? Insomma, chi siamo noi? Esiste un profilo identitario che ci possa definire come popolo utilizzando magari brevi tratti di penna? Insomma, siamo buoni e accoglienti o furbi e cinici? Siamo gente che tira a campare e si accontenta oppure siamo capaci di essere leader, di indicare la strada, il percorso spianarlo magari anche per gli altri? Siamo generosi o egoisti? Se uno dovesse farsi un'idea della nostra identità di popolo osservando i dati che ogni giorno ci fornisce alla cronaca si potrebbe sostenere tutto e il contrario di tutto nel giro di pochi attimi. Siamo un paese di arruffoni e di approssimativi poco professionali, inaffidabili e stando a quanto ci raccontano mille fatti, mille più se lo dico un po' è vero però siamo anche la seconda manifattura d'Europa e questo è innegabile siamo il paese dove si producono i migliori macchinari per l'industria al mondo siamo il primo polo farmaceutico d'Europa abbiamo battuto quest'anno la concorrenza dei tedeschi e la maggior parte dei farmaci studiati e prodotti in Italia viene esportata in mezzo mondo l'export di prodotti agroalimentari continua a crescere ma nello stesso tempo siamo il paese dove le tasse strangolano la piccola e media impresa dove la burocrazia è una zavorra insopportabile dove occorrono una cinquantina di passaggi per avviare un piccolo esercizio commerciale a fronte dei 4 o 5 necessari che sono negli Stati Uniti tanto per fare un esempio siamo il paese dove uno squilibrato però sano di mente spara su un gruppo di immigrati perché ha semplicemente in odio quelli che hanno la pelle di un colore diverso ma siamo anche il paese dove il terzo settore conta 6 milioni di iscritti dove il volontariato è pratica diffusa dove c'è un sindaco, quello di Riasce che commette il gravissimo imperdonabile errore di violare la legge però lo fa, sul giudizio, per fare del bene siamo il paese dei mille volontari che corrono in soccorso dei terremotati svuotando le proprie dispense e i propri armadi ma siamo anche il paese dove qualcuno al telefono ride la sera stessa del terremoto pensando agli affari che si potranno fare che lui potrà fare con la ricostruzione e l'assistenza ai senza tetto siamo il paese dove un gruppo di spacciatori può sequestrare, stuprare e uccidere una ragazzina di 16 anni nel cuore della capitale ma in un luogo fuori dal controllo della stessa città però dove poi un quartiere intero si mobilita contro la criminalità organizzata lamentando l'assenza dello Stato incapace di muoversi perché paralizzato dai lacci di mille e una norme comunali, provinciali, statali a Napoli la squadra antidroga della polizia mette appunto una serie di formidabili sequestri di cocaina ed eroina grazie allo straordinario fiuto di pocio, un Jack Russell dotato di un naso che vale quanto una risonanza magnetica e la criminalità organizzata pare stia correndo ai ripari offrendo addirittura una taglia sulla sua pelle Gomorra contro l'Intintin insomma che paese siamo? è possibile definire la nostra identità? siamo chiusi agli altri o siamo pronti all'accoglienza? siamo disponibili al cambiamento o preferiamo restare legati alle nostre piccole specificità? ammazziamo i nostri parenti per un debito di poche centinaia di euro non restituito che è successo di recente e poi prima di lasciarci andare magari regaliamo tutto quello che abbiamo ai poveri è successo anche questo a Lavagna, l'altro giorno in Liguria protagonista di questa storia incredibile Luigi Marini, 98 anni difficile dire chi siamo, forse siamo tutt'uno il fatto è che la realtà e la vita non sono fatte di dicotomie di bianco e nero ma di sfumature di colori è meraviglioso vedere quelle centinaia di giovani in fila a Napoli a piazza del plebiscito pronti a rispondere all'appello per salvare il piccolo Alex il bambino dagli occhi blu che sta commuovendo il mondo e che ha bisogno di un trapianto di midollo urgentissimo per fronteggiare la rarissima malattia genetica che lo ha colpito a complicare la faccenda c'è il fatto che non basta un donatore qualunque occorre essere geneticamente compatibili con Alex e la cosa non è semplice c'è solo una persona su un milione che può donare il midollo e salvare quel bambino finora quella persona non è stata ancora trovata però sono in centinaia e centinaia in fila nella speranza di essere la persona giusta quella che può salvare Alex la risonanza mediatica ha funzionato la lotta contro il tempo anche occorre far presto perché il farmaco sperimentale con cui tengono in vita Alex in un ospedale di Londra non conterrà per molto tempo il progredire della malattia lo sguardo dolcissimo di quel bellissimo e sfortunato bambino ha fatto il resto in solo tre ore sono stati eseguiti pensate 700 tamponi ad altrettanti volontari i tamponi però sono finiti il ministro della salute Giulia Grillo ha promesso che ne invierà altri intanto la catena di solidarietà non si spezza e continua e questo apre davvero il cuore alla speranza però poi arriva l'appello della presidente dell'associazione donatore di Midollo a sparigliare le carte e a confondere le nostre magre certezze pare che una volta che si è stabilito che la compatibilità non c'è quelli che si erano messi in fila per Alex si tirino indietro davanti alla possibilità di donare il loro Midollo ad altri malati bisognosi ma non è uguale se il nostro Midollo non sarà utilizzabile per il piccolo Alex potrà essere utilizzato per regalare anni di vita ad altre persone invece pare siano in tanti quelli che si tirano indietro però per fortuna sono anche molti quelli che accettano di donare comunque ecco magari non è possibile definire un unico profilo che tenga insieme tutte le facce del nostro popolo però se non vi dispiace a me piace pensare che la maggior parte la parte migliore del nostro paese sia costituita da quelli che non si tirano indietro grazie a tutti grazie a tutti